il primo maggio porta i tuoi libri al mare con sbs comunicazione e la collana editoriale senza barcode dalle 9 alle 19 circa saremo a santa severa in provincia di roma nello stand di libri al mare c'è la possibilità di esporre fare firma copie e presentare i propri libri nella festa dei lavoratori e nel giorno che idealmente segna l'inizio della stagione estiva sulla costa laziale l'evento viene trasmesso anche su web radio senza barcode per informazioni scrivi a sbs comunicazione chiocciola gmail.com o tramite whatsapp al 345 6048 479